Ve ne avevamo dato notizia solamente qualche giorno fa circa il perdurante stato di forte degrado in cui versa il ponte stradale sul Fiumarella, strada statale 106 e Ancadic, anche grazie alla nostra emittente, chiedeva e sollecitava il pronto intervento di messa in sicurezza del sito, al punto da interdire la circolazione stradale ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle oltre 3 tonnellate. Un ponte che si presenta, come vedete dalle immagini, alquanto instabile in termini di transabilità se pensiamo a tutte le parti friabili, incoerenti e in fase di distacco, alle armature ossidate, alle parti copriferro ammalorate o sfarinate, alle polveri e tracce di oligrassi. Da sostituire l'attuale parapetto in tubolare con un nuovo guarda rail secondo la normativa vigente, oltre che la scarificatura e sostituzione del manto stradale. Il piano elaborato dal settore grandi opere prevede altresì la pulitura delle pile e spalle esistenti, la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e nuova illuminazione a LED. Quindi si procederà adesso all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e alle successive operazioni di lavoro di risanamento sul ponte del torrente Fiumarella, dopo la necessaria approvazione di bilancio di esercizio 2021 da parte del comune di Reggio Calabria. Obiettivo principale è tutelare la circolazione stradale e salvaguardare al tempo stesso l'incolumità pubblica e privata.